Grazie a tutti. Buono. Buono. Guarda. Ecco, è largo, largo. Corre dietro. Cari in mezzo. Ma così sta lì, si posa. Buono, buono, buono. Buono! Buono, buono. Buono, buono. Per capitanciare in a recesso di fatto è stato bollito, è stato bollito, come sposti. Per evitare l' video. Eh, è stato bollito, come? Chi ti con la punti d'ed nära? Ha, 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 ha. Ma stai. e giriamo questa palla ci vuole poco e questo è una bella buona bravi e qui va? Luca! Non c'è nessuno che è capace di dare palloni sui piedi al campo Facciamo girare la palla Vediamo in modo che in campo Vediamo l'ultimo passaggio di nessuno andare in torno Giriamola quella palla Non aver paura Oh c'è nessuno Figore E a questo punto lei è anche fuori Guarda dietro al fatto di nipo La mia amica è stata lì La mia amica è stata presa La mia amica è stata presa La mia amica è stata presa Ho e lo avevo sentito La mia amica è stata presa Moda e va rGS Apertene Il giro E' stato preso In giro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.